E' in pieno svolgimento il primo turno di qualificazioni qui all'Internazionali d'Est 2015. 8 gli incontri disputati fino a questo momento con Beis, Chiurulli, Carletti, Trombin, Pecoraro, Vucic, Oradine e Dal Santo ad aver bagnato il proprio esordio con una vittoria. Da segnalare in particolare i successi di Vucic, la testa di serie numero 1, che ha battuto agevolmente Dragoni 6-1, 6-2, di Dal Santo che ha facilmente sconfitto Montresor 6-0, 6-3 e di Oradini che ha battuto Camurri 6-4, 2-6, 6-2. Potete eseguire la cronaca delle partite, gli aggiornamenti e le curiosità sul torneo navigando sul nostro sito internet o visitando le nostre pagine social.